C'è già un battimento Toglio lo zoom, non so se c'è lo zoom Zoom c'è il pulsante Ok, tu devi averlo tolto Sì, è tolto, no? Tra 600 metri, alla rotonda, prendi la seconda uscita e rimani su SP34 Questo è che io dicevo di chiedo, perché siamo qui, siamo un sacco di posti, però Troppo, no? Esci dalla rotonda e prendi SP34 Continua su SP34 per un chilometro Sì, non lo faccio più caldo Sono delle nostre parti quando schifo C'hai capito? Non lo faccio ogni poco Ma io credo perché c'è sabbia Eh sì, sì Sì, sì Sì, sì, sì 400 metri, alla rotonda, prendi la seconda uscita e tronco di viale la verità SP34 Sì, sì, sì Esci dalla rotonda e prendi viale la pelosa SP34 Sì, sì, sì Esci dalla rotonda e prendi viale la pelosa Tra 200 metri alla rotonda Prosegui dritto per rimanere su viene la pelosa SP34 Prosegui dritto per rimanere su Sì, sì Sì, sì 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 Oh Madonna Gula Madonna Scusate la provaccia Se stai registrando che lo scusa per la provaccia Madonna mia Madonna mia Incredibile Incredibile Certo, certo Cazzo Eh, io ho detto che secondo me dobbiamo andare là per capire Almeno la cazzo la... Vediamo Vediamo di che casa siamo Perciò ha detto per la merda Sì, non ne hai fatti Scusa Poi non ci fanno fare il bagno Che ma fa? No, eravamo visti almeno Che devo fare Eh, stavo stupido io non prenotare Intanto 3.50 Potevo prenotare pure tutta la settimana Che cazzo non mi pregava per dirvi Che toglie il fiato e dice Oddio Sam Toglie il fiato, chi toglie il fiato proprio Una piscina gigante però Ciao Ciao Ho acceso vabbè però ieri insomma si sono andati comodi no? l'avvio abbagno qui è perfetto e qua è un po' casicolo quando ti ballevo la Sardegna intendevo questo purtroppo un po' per fortuna ma ora non basta tempo a mettere questo e non... eh ma il gabbiano dove è stato? avevamo nel gabbiano perchè quello se non ci mi sono di una certa... eh capito ma non si capisce in caso tra 400 metri mantieni la destra per continuare subiare la pelusa ti ha messo che cosa? che abbiamo messo? un minuto è tutto bloccato eh un po' rosso mantieni la destra per continuare subiare la pelusa poi la tua destinazione si troverà sulla destra poi la tua destinazione si troverà sulla destra eh non lo so non ci vanno non ci vanno non ci vanno dove la cazzo la metto? se la puoi di tour dai la macchina volentieri la vestiti di tour la tua destinazione si trova sulla destra ah io lo sapevo io lo sapevo che finiva così c'è parcheggio e pagamento lì c'è erano le belle eccoli qua qualcuno ci sarà andato ho visto quante persone ci sarà andate perché disabile veramente è sempre forte posto li vuoi tu? fatti sempre vuoti eh sempre vuoti ehm c'è posto c'è c'è No, il tizio all'ingresso diceva no, no, perché le persone si sono andate. Qua pure era la buona. Eh, infatti è asfaltata. Ma pure qua, sì, meglio qua è asfaltata che là la sabbia. È sempre sopra però. Perché c'è l'ombra? Beh, lo sarà di più. Ah, no, che cazzo è privato proprio, guarda. C'è la sbarra, guarda. C'è la sbarra. Sì, quello era il posto buono. Se tu giri un'altra poco, perdi pure quello. No, non ci vado qua. Ci vai. Ci hanno dato il Range Rover, più grosso di te, e tu non ci vai. C'è una cosa, una cosa. Eh no, ci sta l'ombrellone, non vado a togliere l'ombrellone, sinceramente. No, non vado a togliere l'ombrellone, non vado a togliere l'ombrellone, non vado a togliere l'ombrellone.